Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video dove vi riassumerò le mie uscite in questo piccolo affluente del fiume Orcia. Abbiamo effettuato queste micro catture, spero vi piacciono, godetevi il video ragazzi. Eccolo, ce l'ha. L'ha. Preso. Lo slamiamo, amo senza ardiglione, rigorosamente. E lo rilasciamo. Vai Marco, tiralo su. Eccolo. Ragazzi guardate, mio fratello non so come ha fatto ma ha preso questo barbo. Adesso lo rilasciamo. Eccolo, bello. Grosso. Che botto. Eccolo. Guardate che grosso. Ragazzi, guardate che bel cavetano. Lo rilasciamo subito. Guardate. Che spiegata. No. Eccolo. No. È cascato qua. Ragazzi. Ragazzi, guardate questo piccolo bairone. Guardate che bello. Potrebbe avere le uova. Adesso lo rilasciamo. Bello, bello. Molto bello. Ragazzi, guardate il primo pesciotto. Adesso lo rilasciamo. Allora, buttalo. Scappotto. Eccolo. Eccolo.